SALUS A 25 NOVEMBRE 2011 Chi di voi segue quello che accade nel mondo, ha senz'altro notato che le nostre previsioni sulle conseguenze si stanno avverando. Gli enormi problemi bancari e finanziari stanno chiaramente portando al tracollo, senza che ci sia modo di impedirlo. State vivendo in un mondo in preda al caos, immancabilmente destinato a implodere. La gente ora si rende conto degli errori del vecchio sistema, ma finora non ci sono state risposte reali, atti a risolvere del tutto i problemi. Un certo numero di governi ha collettivamente concordato un nuovo approccio bancario, ma resta da vedere se si muoveranno. Questa situazione ci offre l'opportunità di spingere avanti i nostri alleati che, con il nostro aiuto, potranno esporre quanto occorre per avviarsi su una nuova strada, che risolva le difficoltà. Bisogna anche considerare il programma di prosperità, che seguirà i cambiamenti proposti, di conseguenza, stiamo attivamente lavorando per instaurare una prevenza di ordine. Molte cose in attesa di emergere dipendono dalla divulgazione, che è già pronta e si attende soltanto una data precisa da concordare. Col passare di ogni settimana, la necessità di iniziare i cambiamenti diventa sempre più pressante, ma dopo anni di paziente attesa, non vogliamo essere troppo precipitosi. Non ci sarebbe, infatti, nulla da guadagnare nell'iniziare troppo presto, perché la nostra azione deve essere coordinata alla vostra per garantire un successo più egevole. La Federazione Galattica continua a monitorare da vicino le attività degli oscuri perché, quantunque la loro struttura sia allo sbando, sono tuttora pericolosi. Li abbiamo, comunque, privati della possibilità di provocare un grosso disastro, e impediamo loro di interferire in Medio Oriente. Questi paesi devono risolvere da soli i loro problemi e, per quanto possibile, soddisfare le richieste della loro gente. In passato, l'Occidente ha volutamente puntato gli occhi sui loro campi petroliferi, spesso fomentando problemi e guerre, per indebolirli e soggettarli. Il colonialismo ha derubato le popolazioni indigene dei loro prodotti naturali e tutto ciò dovrà essere affrontato, non appena è estaurata la pace. Tantissime cose sono accadute, tali da rendervi davvero asserviti pur lasciandovi credere di essere liberi, cosa ben lontana dalla verità. La vera libertà sarà ripristinata una volta scacciati gli oscuri, e con nuovi governi che rispetteranno la Costituzione. Molte leggi emanate di recente, di fatto illegittime, saranno abrogate e la gente eventualmente danneggiata o imprigionata, sarà risarcita. Tali cambiamenti dovranno avvenire con la nostra assistenza, che garantirà il vostro ritorno a esseri sovrani. Tutte queste azioni prepareranno la strada per le grandi cose a venire, con e dopo l'ascensione. Come potete vedere, vi attende un periodo non solo ben impegnato, ma anche pieno di soddisfazioni. Ormai la maggior parte di voi che segue le varie fonti di informazione attendibili, ha già afferrato quale meraviglioso futuro si profila. Questo dovrebbe rendervi molto più accettabile il percorso attraverso i cambiamenti, che le nostre tecnologie renderanno facili e molto rapidi. I nostri piani sono immediatamente aggiornati in funzione dei cambiamenti essenziali, e siamo pronti a entrate in azione non appena fissati i preliminari necessari. Tutto sta per essere approntato, e sappiamo che occorre pochissimo tempo prima di concretamente iniziare. Siate coraggiosi e mantenetevi saldi nel fronteggiare gli attacchi alle vostre idee perché, quando taluni comprenderanno che il mondo sta cambiando in modo permanente, saranno molto riluttanti a rinunziare a quanto possiedono. In cuor loro sapranno di non poter impedire l'evoluzione, ma la paura li spingerà ad avversare qualsiasi mutamento. Se vi sarà chiesto di aiutarli a capire, fatelo senza soverchiarli con la vostra conoscenza, ma limitandovi a dare quanto occorre per superare il blocco, che impedisce loro di comprendere. Alcune anime sono qui presenti per fare l'esperienza dell'ascensione a distanza, non sentendo alcun desiderio di esserne di fatto coinvolti. Tuttavia, ogni esperienza contribuisce a farvi progredire e, di conseguenza, spesso alcuni semi daranno in seguito l'opportunità di evolvere maggiormente. Il libero arbitrio opera qualunque sia la scelta dell'anima, essendo noto che, se coinvolti in una situazione negativa, potrete sempre tirarvene fuori. Dopotutto, la vita è eterna e voi siete immortali, e il Creatore non vi pone alcun limite, avendovi accettato tra coloro che desiderano fare le loro esperienze al di fuori della sorgente. Ogni anima trae vantaggio dall'esperienza collettiva e i suoi livelli di coscienza aumentano rapidamente. Come in alto così in basso, e sulla Terra voi siete tutti innalzati dai crescenti livelli di coscienza degli altri. Siete come una sola grande anima e, nel vostro presente stato di risveglio, siete in grado di percepire l'unità di cui siete parte. È perfettamente vero che ciò che fate a uno lo fate a tutti gli altri. Una volta arrivati a tale livello di comprensione, accetterete meglio la responsabilità dei vostri pensieri e azioni, comprendendo di essere un'energia creativa, che influisce sugli altri. Prepararsi alle festività di fine anno sarà una gradita diversione dalla tetraggine, che i media vi riversano quotidianamente. Cogliete questa opportunità per godervi le riunioni in cui le famiglie si ritrovano, rinnovando l'amore, che le unisce. Dare fa bene all'anima, quando si agisce senza aspettarsi qualcosa di ritorno. Diventa un piacere speciale quando si tratta di bambini e vedere le loro espressioni di gioia e felicità. Di solito, essi non si preoccupano del costo di un regalo e accolgono con gioia anche doni molto semplici. Gli adulti, talvolta, giudicano diversamente, ma è sempre il pensiero quel che conta e che dovrebbe essere sempre apprezzato. Secondo il vostro grado di consapevolezza, avrete ancor più del solito da celebrare, perché il 2012 è ormai alle porte e sarà assolutamente straordinario. Sarà completamente diverso da qualsiasi altro anno, ma per le migliori ragioni, e noi ringraziamo tutti quelli che sono venuti sulla Terra per spargere la Luce. Sarà un anno che ricorderete per tanto, tantissimo tempo e di cui si parlerà in tutto l'universo. Il fatto che voi avete vinto le tenebre e che l'ascensione è data per certa, rappresenta la garanzia che l'universo è salvo e che l'ascensione sarà completata. Io sono il Siriano Sallusa e mi ritengo super privilegiato di lavorare con anime tanto belle. Vi benedico e a tutti voi invio il mio amore. Grazie, Sallusa. Mike Quincy Traduzione Costanza 2003